di non festeggiare il 25 aprile. Non esiste, è la festa più bella che abbiamo in questa Repubblica. Non ci sarebbe stata la Repubblica senza il 25 aprile. Non può essere ancora divisivo il 25 aprile. Scusami, e invece Salvini come si sta comportando? Hai rifissato il cazzaro verde, il librone? L'aveva scelto Travaglio il titolo cazzaro verde? Non aveva scelto il titolo, l'aveva usato un anno prima e io l'ho utilizzato perché lui si era salvato in una causa civile. Quindi ho detto se si può utilizzare... Ah, capito, furbo! Certo, io ho mandato avanti Marco, come faccio sempre, io ho mandato avanti il maestro e poi arrivo io d'allievo. Certo, c'è anche Salvini dentro il libro, non è minimamente fascista Salvini, è un altro che però un po' è ambiguo. A Roma lo sai meglio di me, c'era qualche candidato di Casa Pound dentro la Lega. Salvini ha delle foto con dei membri dell'estrema destra, aveva ipotizzato di aiutare la destra del nuovo millennio. E' un altro che quando gli dici sei antifascista lui parte con la supercazzola, se io sono contro tutti gli estremismi, siamo d'accordo, però tu rispondimi sono antifascista.